Palermo scoperta una fonderia clandestina di metalli preziosi, intercettato un carico di lingotti per un valore di 300.000 euro. Scattano due denunce. Terrasini, vandali in azione, a fuoco gli spogliatoi del campo sportivo Salvatore Favazza. Per il sindaco si tratta di un atto scelerato fatto da barbari volutamente. Aeroporto Falcone e Borsellino rischiano il licenziamento 23 dipendenti della ristorazione, chiusi ristoranti e bar. Cinisi, il consiglio comunale approva le nuove tariffe idriche, bollette ridotte quasi del 50%. Partinico, rappresentanti di spicco del Partito Democratico locale propongono la ricostruzione del PD con un direttorio che mette insieme tutte le correnti. Buonasera e bentrovati con le notizie di Studio TV7. Oggi sabato 4 ottobre, come avete sentito dai titoli, apriamo subito con una notizia di cronaca. Gli agenti del commissariato Libertà di Palermo hanno recuperato 45 lingotti d'argento e uno d'oro per un valore di 300.000 euro. I metalli preziosi viaggiavano su una monovolume fermata dalla polizia a Brancaccio. Vediamo. Paletta e stop forzato della macchina all'altezza del ponte di Via Jafar. Poco plausibili le risposte del conducente alle domande dei poliziotti. Da qui il controllo del mezzo e la scoperta di 45 lingotti di puro argento e di uno in oro per un valore di circa 300.000 euro. Denunciato il conducente della monovolume, si tratta del capostipite di una famiglia palermitana che gestisce uno dei tanti negozi compro oro della città, che per l'occasione era stato trasformato in un compro e fondo oro. Una laboriosa attività che impegna l'uomo, assieme ai figli e ai poti, in una bottega nella zona est della città. È bastato controllare i registri di carico e scarico della merce per scoprire che dell'argento e dell'oro fusi in lingotti non c'era traccia. Ad aprire agli investigatori, nuovi e inquietanti scenari, è stato uno dei figli dell'uomo fermato al volante che ha condotto i poliziotti nei pressi di un magazzino della zona industriale di Brancaccio. Più che un magazzino si sono trovati di fronte un laboratorio artigianale utilizzato per la fusione dei metalli preziosi. Vicino all'attrezzatura c'erano numerose posate d'argento che il figlio ha raccontato di aver acquistato da uno sconosciuto a buon mercato. Una tessia, anche questa poco convincente, ancora meno quella del capo famiglia che per giustificare la presenza di un lingotto d'oro nel magazzino ha detto che era il prodotto della fusione dei gioielli di famiglia. Il padre, l'individuo fermato dai poliziotti alla guida del monovolume, è stato denunciato per riciclaggio. Il figlio, componente del nucleo familiare che ha indicato agli agenti il magazzino laboratorio, è stato denunciato per ricettazione. E continuiamo con la cronaca. Nascondevano la droga nei vasetti omogenizzati e nelle lattine di Coca-Cola. Baldassere Di Franco e la moglie, Patrizia Cardillo, palermitani di 41 e 39 anni, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Del blitz scattato in via Rogero Loria, dove i carabinieri del nucleo investigativo, sezione antirapina di Palermo, hanno notato nei giorni scorsi uno strano via vai di probabili acquirenti. Rinvenute e sequestrate presso l'abitazione dei due congiunti, 70 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, nascosta in due barattoli di omogenizzati, e 28 grammi di cocaina, occultata all'interno di una lattina di Coca-Cola. All'interno della stessa abitazione i carabinieri inoltre hanno rinvenuto diversi materiali, quali trita marijuana, coltelli vari, bilancino e bustine utili al confezionamento della droga. Atto vandalico al campo sportivo Salvatore Favazza di Terrasini, devastato l'archivio e dato alle fiamme gli spogliatoi. Vediamo in questo servizio e sentiamo le dichiarazioni del sindaco Massimo Cucinelle e del responsabile scuola calcio Vincenzo Lopiccolo. Sindaco, come possiamo definirlo? Un atto vandalico o un danno incredibile a Terrasini? Un atto scellerato sicuramente, fatto da barbari che non comprendono l'importanza del sito, l'importanza del campo sportivo per lo sviluppo del fisico e dei nostri giovani che partecipano e giocano a calcio qui nel campo Favazza. È un atto veramente vile, persone che non un cortocircuito ma un atto scientemente postenesse per creare danni. Ma quello che non capisco è che non riesco a immaginare chi possa fare un atto del genere. Posso capire quando vanno a rompere un pallo della segnaletica perché devono fare la bravata. Posso capire ma chiaramente non giustificare quello che succede per i nuovi contenitori che abbiamo messo da poco insieme alla Proloca. Abbiamo collocato dei cestini che loro i ragazzi della Proloca avevano ottenuto con un rapporto con un hotel per il quale avevano fatto le guide turistiche francesi. Con i soldi che hanno guadagnato hanno messo insieme a noi i contenitori, i cestini e qualcuno già ne ha rotto uno. Posso arrivare a capire la bravata, questa non è una bravata, questo è un atto violento, scellerato, un atto postenesse da gente che non ha rispetto per la città e per i cittadini che ci vivono e giocano in questo caso. La cosa più brutta è che domani doveva giocarsi una partita dei ragazzini non si giocherà proprio per questo. Lo vogliono, vogliono operare in questo modo, vogliono bloccare lo sviluppo della città. Ma questo lo impediremo, lo condanniamo e lo impediremo. Ma io quello che dico sempre in questo caso, siccome sto notando un'escalation, quello che volevo dire non è la bravata. Qua è un atto violento, scellerato e fatto con cognizione. Arrivare a rompere una porta di velta nelle condizioni in cui l'avete vista. Arrivare a bruciare all'interno dello spogliatoio legna proprio per appiccare il fuoco. Io non vorrei che questa escalation possa arrivare ad altre cose ancora più grave e qualcuno possa veramente farsi male anche fisicamente. Per cui credo alle forze dell'ordine di effettuare, che sono state da noi allertate, di effettuare ulteriori controlli e di riuscire a identificare questi violenti e barbari per dar loro la giusta punizione. In qual caso io vi anticipo che se riescono ad identificarli mi costituirò parte civile perché la città merita una maggiore tutela e un maggiore rispetto. Credo che con le condanne veramente importanti si riesca a far crescere queste persone e ad aprirgli gli occhi verso la socialità, verso lo sviluppo di una collettività. Questo è un gesto sicuramente calcolato e mirato, non è un atto di una ragazzata perché come avete potuto vedere sicuramente i danni non sono, anzi potevano essere ancora peggiori se l'intervento di qualche persona non avrebbe frenato un pochettino i danni. Questo è un grave atto nei confronti di un intero paese perché il calcio si sa, è lo sport in genere, ma il calcio si sa, è il motore di un intero paese. Considerate che la nostra realtà, la mia realtà, la SD Renzo Lopiccolo che da poco ha chiuso un'affiliazione con l'Udinese Academy vanta più di 200 atleti nella sua società. Abbiamo 5 squadre che fanno calcio a 11 e capite bene che un gesto di questo, non so ancora l'amministrazione cosa prenderà, cosa deciderà, è chiaro che è un grosso e duro colpo. Però noi siamo compatti, l'amministrazione c'è vicina e quindi spero che ben presto risolveremo il problema e possiamo andare avanti. Parte del tetto di una struttura di piazza Santa Chiara nel quartiere Ballarò di Palermo è venuto giù andando a colpire un'auto parcheggiata. Quando è avvenuto il fatto fortunatamente nessuno si trovava di passaggio in quella zona e dunque non si registrano feriti. Il crollo si è verificato ieri sera intorno alle 21 quando alcuni residenti hanno avvertito un forte boato. E così sono arrivate numerose segnalazioni tra la centrale di polizia e la sala operativa dei Vigili del Fuoco poi intervenuti per mettere in sicurezza l'edificio e transennare l'aria. Parliamo adesso di lavoro. Rischiano il licenziamento 23 dipendenti della ristorazione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo da ieri pomeriggio, sala cinesche serrate. Se vi capita di transitare per l'aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino e volete prendere un caffè non potete farlo, quindi portatevelo da casa con il vostro termus perché tutti i punti di ristorazione sono da oggi chiusi. Sono sei i punti di ristorazione all'interno dell'aeroporto, uno agli arrivi e cinque alle partenze. Perché sono chiusi? Perché questo succede soltanto nell'aeroporto principale siciliano? Perché c'è un problema occupazionale e Autogrill che gestisce i punti vendita sta iniziando a licenziare del personale. Proprio oggi sono arrivate delle lettere di licenziamento e quindi c'è il preallarme per un problema grave. Lei ha detto benissimo. La mia sigla sindacale in maniera unitaria insieme alle altre sigle presenti qui in aeroporto all'interno di Autogrill abbiamo espedito un esame congiunto a seguito della procedura che l'azienda ha aperto della 223 del 1991 dichiarando un esubero di 23 unità. Nel confronto sindacale che abbiamo avuto diverse trattative di fatto l'azienda ha negato spazi di trattative con strumenti alternativi e licenziamenti come contratto di solidarietà, flessibilità, banca delle ore comunque tutti strumenti alternativi e non traumatici per il personale per salvaguardare l'occupazione di tutto il personale. L'azienda di fatto ha negato questi spazi di negoziazione. È andata dritta puntando sui 23 esuberi l'unica apertura che ha fatto è che ha dato la possibilità di ricollocazione a otto unità ad alcuni laboratori secondo i profili che l'azienda ha indicato nella trasformazione delle tipologie contrattuali da full time a part time. Considerando che Autogrill è forse una delle poche aziende italiane in attivo potrebbe questo essere un problema politico anche perché credo che Autogrill è qui a che fare con la GESAP per le varie autorizzazioni. Sì, penso di sì anche perché loro sono in sub concessione perché di fatto è la GESAP che detiene la concessione di tutte le aree all'interno di Aerostazione. Abbiamo cercato anche di interloquire con GESAP e con l'ENAC ma di fatto al momento non ci hanno mai ricevuto, non si è aperto un tavolo tecnico. Abbiamo attivato un tavolo di raffreddamento in prefettura proprio per minacciare lo sciopero fermo restando che abbiamo cercato, ripeto a dire, di aprire uno spazio di negoziazione perché notoriamente le nostre sigle, soprattutto la mia sigla che rappresento non predilige né scioperi né azioni giudiziarie ma cerca sempre un confronto, un dialogo, una concertazione con le aziende per trovare un equilibrio che secondo me è la soluzione migliore. Intanto tutti i dipendenti sono in assemblea permanente da oggi anche per solidarizzare con coloro i quali hanno già ricevuto questa lettera di licenziamento? Sì, al momento sono in assemblea. Quanto durerà? Al momento non è dato sapere. Sappiamo per ora che siamo in assemblea dopodiché, come ho detto poc'anzi, abbiamo attivato contestualmente una procedura di raffreddamento in prefettura, quindi aspettiamo ora nei prossimi giorni che il prefetto ci convochi. Dopodiché abbiamo solamente ricevuto una nota di GESAP nella quale nota fa intendere che tutte le aree di ristoro sono in termini di esclusiva ad autogrill e che comunque quello che hanno denunciato loro in procedura, che loro fanno riferimento ad una chiusura delle aree di ristoro, in realtà vengono smentite da GESAP in quanto dicono che a seguito di una riorganizzazione, di una ristrutturazione si parla di lavori di adeguamento ma non di chiusura definitiva e quindi di ampliamento. Quindi non si capisce, non è dato capire al momento per quale motivo l'azienda invece vuole perseverare nei licenziamenti. Parliamo di un'altra avvertenza, rimanendo sempre nell'ambito del lavoro, i capannoni industriali della Keller di Carini potrebbero finire in mano alla regione. Il governo regionale attraverso l'IRSAP è pronto ad acquisirli per darli in uso ad un'impresa, l'Auer Rail, disposta a riattivare il polo ferroviario. Lo scrivono in una lettera inviata al commissario Keller e Nicola Maione, l'assessore alle attività produttive Linda Vanchieri, l'assessore all'economia Roberto Agnello e il governatore Crocetta. Il fermo delle attività industriali aggravato dall'ipotesi di smembramento dell'ansaldo Breda, scrivono dal governo, determina enorme preoccupazione. L'ipotetica chiusura di queste attività industriali rappresenterebbe ulteriore insostenibile impoverimento industriale del territorio siciliano, già abbandonato da iniziative industriali di valore strategico. Il governo regionale ha intenzionato a favorire nella programmazione 2014-2020 l'utilizzo di progetti di sviluppo legati al mercato delle costruzioni ferroviarie. Cambiamo argomento, il Consiglio Comunale di Cini si ha approvato le nuove tariffe idriche, cifre ribassate quasi del 50%. Soddisfatto il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Manzella. Ascoltiamo. È approvato un nuovo regolamento sull'acqua, quali sono le novità? Finalmente dopo tanti anni di aver condotto personalmente il problema dell'acqua pubblica, dal 2004 io sono sempre dichiarato che l'acqua dovrebbe essere gestita dal pubblico, non dal privato, come è successo poi subito dopo. Finalmente l'acqua è tornata al nostro comune grazie anche a un'azione di forza del nostro sindaco che si è riappropriato delle reti. Quindi dopo che ce l'hanno riconsegnata l'APSE in fase di fallimento, noi come comune abbiamo fatto un regolamento, l'aggiunta l'ha preparata e è venuta in Consiglio Comunale. Nella sostanza quest'acqua che costava circa, con la gestione privata, circa 88 centesimi al metro cubo per un consumo massimo di 90 metri cubi, costava già l'APSE, la dava ai cittadini a 88 centesimi al metro cubo. Grazie al ritorno al comune, quindi alla gestione pubblica, l'acqua costa fino a 220 metri cubi, 32 centesimi. Quindi questa è una tariffa sociale che tutti i cittadini ne possono beneficiare e quindi continuiamo in questa maniera perché noi abbiamo intenzione all'aggiunta anche dal Consiglio Comunale di procedere con i rifiuti, per far sì che queste tariffe vengono abbassate notevolmente, soprattutto che abbiamo un paese pulito, quello che adesso non succede con la raccolta del lato rifiuti. L'amministrazione e il sindaco stanno preparando una ordinanza per far sì che tutto questo ritorni in gestione pubblica, quindi del comune, e così la vergogna del lato e la politica del lato che è stata fallimentare, i cittadini dovrebbero riappropriare il proprio territorio perché in questo minuto il territorio è sporco che non consente un adeguato sviluppo turistico con tutti questi rifiuti per strada. Cosa state facendo? Stiamo facendo un'ordinanza, il sindaco sta preparando un'ordinanza sindacale, applicando una legge, la 191, che è in potere al sindaco, che può affidare ai privati la raccolta dei rifiuti. Da ciò poi cominceremo la raccolta della differenziata, la raccolta per far sì che in discarica conferremmo meno, in maniera tale che la tassa si dovrebbe abbassare. Adesso spostiamoci a Partinico e parliamo di politica. I rappresentanti di spicco del Partito Democratico Locale propongono la ricostruzione del PD con un direttorio che metta insieme tutte le correnti. Il servizio. Nel marasma e nell'incertezza che attualmente avvolge il circolo locale del PD, sempre più dilaniato dalle polemiche interne, che praticamente vive una fase di stallo da più di un anno proprio per via dei conflitti con la segreteria, prendono posizione uomini di spicco dei democratici a livello locale per cercare di superare questo momento critico. Anche per evitare un non-commissariamento da parte della segreteria provinciale che appare sempre più dietro l'angolo. Gli ex-assessori Nino Locascio e Gaspare Rappa, il già consigliere per diverse legislature Totobono e uno tra coloro che è stato recentemente ai vertici del partito Gianluca Cangemi provano a trovare la via d'uscita. La proposta che mettono sul piatto cerca la mediazione. Si propone la costituzione di un direttorio, scrivono in una nota, che sostituisca l'attuale segretario e che rappresenti tutte le componenti del circolo. Ciò suggerisce all'attuale segretario in carica di dare le proprie dimissioni. Gli scontri nel PD si sono acquiti dopo le elezioni amministrative e la successiva adesione del sindaco Salvo Lobiundo, osteggiato per ben due campagne elettorali dai democratici. Il tesseramento del primo cittadino, che ha portato con sé un numero elevatissimo di fedelissimi, ha sostanzialmente scalzato la vecchia guardia che ad oggi non ha digerito queste manove. In questo contesto la segretaria cittadina, letta subito dopo le amministrative, è stata più volte sfiduciata proprio dall'ala dei lobby undiani. Bono, Locascio, Rapp e Cangemi partono però da un dato di fatto. Si riconosce senza infingimenti l'attuale amministrazione come guidata da esponente del PD, scrivono, ma ciò presuppone in un clima di riconciliazione la necessaria correzione di orientamenti e politiche finora adottati dal sindaco e l'elaborazione di un nuovo patto fra il PD e il capo dell'amministrazione. Prendono una multa e investono i vigili con l'auto. È accaduto ieri pomeriggio a Palermo in via Marinai-Aliata. Protagonisti della vicenda un padre, Giuseppe C, di 48 anni, e il figlio Carmelo, di 23. Due agenti li avevano colti in fragrante mentre scaricavano rami secchi. Alla richiesta dei documenti i due si sarebbero opposti, sono risaliti a bordo della macchina. Nell'attentativo di effettuare la retromarcia con ancora lo sportello aperto hanno investito i vigili che tuttavia sono riusciti a bloccare il mezzo e ad identificare i passeggeri anche grazie all'intervento di un paio di pattuglie della polizia intervenuta nel frattempo. Per i due è scattata una denuncia per resistenza e oltraggio. Ancora cronaca per i medici dell'ospedale San Paolo di Milano, lo stato di salute del boss Bernardo Provenzano è incompatibile con il carcere. È stata inviata una relazione al Tribunale di Sorveglianza di Roma. I magistrati che dovrebbero pronunciarsi sull'eventuale revoca delle carcere duro e inflitto al boss hanno chiesto all'ospedale ulteriori accertamenti. A Castellammare del Golfo sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della scuola comunale Crispi. Sentiamo il servizio. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della scuola comunale Crispi. L'edificio scolastico sarà consolidato con un progetto finanziato per circa 300 mila euro con il cosiddetto decreto del fare. Per consentire lavori e minimizzare i disagi, evitando così i doppi turni, le 12 classi della scuola sono state spostate negli altri plessi cittadini, ma con qualche difficoltà. Al Circolo Pirandello, ad esempio, alcune classi sono state riunite. L'assessore alla pubblica istruzione, Salvo Bologna, ha annunciato che a fine novembre i lavori interni al plesso Crispi dovrebbero essere ultimati, consentendo così il rientro delle classi. La manutenzione del plesso Crispi, risalente agli anni 50, prevede il consolidamento dei solai che presentano le zone strutturali, in modo da garantire la sicurezza delle aule. Saranno anche migliorati i servizi igienici, con i relativi impianti idrici ed effettuati vari altri lavori di manutenzione. In totale sono otto i progetti che riguardano le scuole finanziate all'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo. Sempre con il decreto del fare è stata infatti finanziata la ristrutturazione del plesso Falcone Borsellino e del Don Bosco. Circa 194 mila euro sono stati finanziati invece con delibera cipe per la ristrutturazione della scuola Mignosi e della scuola di Balata di Baida. Problemi al porto di Terrasini, protestano i pescatori. Sentiamo il perché in questo servizio. State partendo per la pesca, ma che problemi ci sono al porto di Terrasini? Innanzitutto l'immondizia che ci sta, senza acqua, senza luce, siamo abbandonati completamente di tutto. Quest'anno in particolare è uno schifo, voi vedete, acqua non abbiamo, dobbiamo fare acqua, dobbiamo chiamare la Tobotte e dobbiamo pagare. Non c'è luce, anche quando entriamo abbiamo problemi ad entrare perché non c'è neanche un faro attivo che fa vedere se c'è maltempo abbiamo problemi. Voi vi siete rivolti al comune o qualcuno? Tante volte, tante volte, noi abbiamo chiamato, c'è gente che noi gira, c'è Nunzio Maniaci che è un signore veramente, per noi lotta, ma da solo non fa nulla. Questo ragazzo qui ha fatto di tutto per noi, però fanno finta di nulla. Siamo completamente abbandonati di tutti e di tutti. È l'unico porto a Terrasini con tutte queste barche che ci sono, che siamo abbandonati completamente. Domenico, scusate, forse probabilmente voi non avete neanche la possibilità di protestare perché dovete uscire per mare, per campare, insomma, questo è un altro problema. Noi oltre tutto che usciamo per mare, che quest'anno è una pesca così brutta, non abbiamo neanche tempo, ma siamo abbandonati completamente, è una cosa assurda. Terrasini è diventato praticamente uno schifo, un po' un porto di questo, gente che viene qua in vacanza e vede quello che vede, è una cosa disgustosa, per Terrasini è una cosa tremenda. Enunzio Mariaci è con noi al porto di Terrasini, hanno detto tutti i pescatori, per voce di Domenico, insomma, francamente le loro ragioni sono, credo, indiscutibili. Assolutamente, proprio loro che sono l'operatore del mare. La nostra forza economica per tanti anni di Terrasini è stata la marineria e questa amministrazione, come le altre amministrazioni, hanno tentato sempre di escluderli e di non agevolare assolutamente il loro lavoro. Non a caso a Terrasini manca lo scalo di Alagio, una battaglia che porta avanti al 2007, finalmente finanziata, ma ancora non si capisce perché non partono questi lavori. Ma la cosa più importante è quella di intervenire subito, a breve termine. C'è la necessità di mettere i cassonetti alla spazzatura, perché come si vede è assolutamente abbandonata la spazzatura. C'è bisogno di riattivare tutto l'impianto elettrico dell'illuminazione del porto di Terrasini. E la cosa fondamentale è di riattivare subito il faro verde che serve alle barche per rientrare in porto. Hai presentato qualche interrogazione in Consiglio? Ma in Consiglio ormai è diventata quotidiana il mio intervento sulla questione del porto, ma anche a questo punto a livello regionale, perché abbiamo chiesto un tavolo tecnico, sia per la questione della calamità naturale, proprio perché quest'anno la nostra marineria ha pescato veramente poco, sia a livello nazionale, abbiamo chiesto un incontro con il Ministero, proprio per riportare le esigenze e le istanze dei nostri pescatori. Magari una nuova giunta, un nuovo assessore Viviano? Ma l'ospice è proprio questo, chiederemo all'assessore che si è appena insediato di intervenire subito, di dare un segnale forte e chiediamo di intervenire ripristinando immediatamente queste colonnine. L'approvvigilamento idrico o l'impianto elettrico per rimpiazzare la propria barca è assolutamente fondamentale per dare un minimo di sostegno a queste attività imprenditoriali del territorio. E' ancora un appuntamento in occasione dei dieci anni dalla beatificazione del centenario della nascita della Beata Pina Suriano. Le sue reliquie saranno portate domani in processione dal santuario fino alla chiesa madre di Partinico, dove rimarranno fino a giovedì. Nel corso di questi cinque giorni si terranno incontri sulla figura della Beata e sulla sua vita, preghiere e riti con la presenza del Vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri. Negli stessi giorni nel Salone del Rosariello si terrà una mostra sulle tappe più importanti del percorso di beatificazione e canonizzazione della Beata Pina Suriano a cura di Maria Suriano, Rosalia Laperna e Michela Franzone. Giovedì all'ora 18, Monsignor Giuseppe Gerace officierà una messa al termine della quale le reliquie torneranno in processione al santuario di via Francesco Crispi. Era questa l'ultima notizia per oggi, grazie come sempre per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti per aver guardato il video.